Il primo calendario perché è la prima stagione agonistica della società, quindi è sicuramente il primo. Speriamo che non sia l'ultimo perché si vuole continuare a fare bene. Sicuramente le aspettative erano di fare un buon campionato, ma in questo momento mi viene da dire che stiamo facendo ben oltre le aspettative perché essendo al comando della classifica, anche se la squadra di Cutrofiano dovrà recuperare una partita, comunque ci vede il vertice, quindi non si può dire che non è una situazione di contentezza per come sta andando. Questo è impensabile negarlo. Speriamo che nella seconda fase, che ultimerà alla fine di gennaio, di continuare a essere al vertice della classifica per poi presentarsi ai play-off con una situazione di prestigio, tranquilla. Questo è il mio augurio, ma penso che questa cosa possa succedere. La ciliezina sulla torta sarebbe il ritorno del pubblico, secondo me? Quello senz'altro, perché giocare lo sport in generale senza pubblico è una situazione indegna per tutti gli sforzi che si fanno attorno, per poi arrivare alla partita e non vedere il pubblico è molto brutto. Speriamo che la malattia si cominci a debellarla oppure a trovare delle soluzioni che ci permettono di riportare un po' di pubblico all'interno del palazzetto per coronare al meglio tutti gli sforzi che si fanno attorno a una partita. Megabox e Banca di Pesaro, una coppiata in questo momento vincente anche per come sta andando il campionato delle ragazze qua a Vallefoglia. Oggi anche la presentazione del calendario. Sì, una coppiata vincente. Di questo siamo grati alla società che ci ha coinvolto in questa iniziativa e siamo soddisfatti anche dell'abbinamento che abbiamo avuto perché le ragazze stanno ottenendo degli ottimi risultati sul campo. Quindi una società ambiziosa, ben gestita, oserei dire come la Banca di Pesaro non perché io sono il presidente ma qui mi rivolgo alla direzione generale quindi a tutto il personale che stanno lavorando in maniera intensa quindi un personale della Banca di Pesaro che sta dando degli ottimi risultati ben guidato e con degli obiettivi importanti. Quest'anno noi abbiamo avuto degli incrementi in doppia cifra ma ovviamente sul credito ma anche sulla raccolta questo sul credito soprattutto grazie conseguenza della pandemia e del sostegno alle imprese che però la Banca di Pesaro non ha fatto mancare perché in tempi brevissimi abbiamo regolato tutti i finanziamenti che ci venivano richiesti, le sospensioni dei mutui e via dicendo. Obiettivi per il prossimo anno sono quelli di crescere ancora quindi di diventare sempre più la Banca di Pesaro come la banca del territorio, della propria comunità in cui opera perché noi operiamo nella nostra città di Pesaro nel comune di Vallefoglia, Montelabate e quindi sono i nostri ambiti di azione e in questo ci stiamo adoperando per crescere all'interno di questa comunità per avere risultati che anche quest'anno si sono dimostrati molto importanti e soddisfacenti quindi questo è il nostro obiettivo come per la Megabox l'obiettivo è di rimanere in vetta e di raggiungere un risultato importante che non lo diciamo ma sappiamo qual è. E anche l'idea del calendario nasce soprattutto per tenere vicini i tifosi che in questo momento così difficile non possono venire al palazzetto a sostenere le proprie giocatrici. Esatto, sì, è un modo di essere presenti anche se purtroppo non si può venire al palazzetto a vederli dal vivo a giocare sperando che questo possa avvenire in tempi brevi e più presto al momento però dobbiamo accontentarci di immagini e anche di un calendario e quindi la Banca di Pesaro ha voluto dare questo sostegno per essere presente anche con i tifosi. Ma in questo momento noi sentiamo tanto la mancanza del pubblico perché comunque abbiamo fin dalla B1 dei tifosi organizzati che sono i Baluch che l'anno scorso ci seguivano anche in trasferta e ovviamente la mancanza di pubblico fa venire meno l'apporto delle persone che di solito ci stanno vicino ci fanno per noi. Abbiamo visto che l'unica partita in casa in cui è stato ammesso il pubblico loro hanno fatto la differenza abbiamo sentito il loro calore sono tempi bui sono tempi molto seri di problematiche più grandi quello dello sport però io reputo che non ci sia sport senza che qualcuno guardi. Veta della classifica Cutrofiano è una partita da recuperare però lei è soddisfatto? La vetta è solo virtuale perché in realtà Cutrofiano deve recuperare due e quindi potenzialmente Cutrofiano sarebbe a sei punti da disposizione quindi sarebbe ancora un punto avanti in realtà sono queste posizioni classifiche che lasciano il tempo che trovano perché questa classifica è solo parziale determinerà i vari spostamenti per chi potrà andare alla Coppa Italia e soprattutto determinerà le prime cinque che si porteranno dietro il punteggio per fare poi il vero girone playoff con le cinque dell'altro girone quindi in questa fase avere un punto in più un punto in meno essere primo e secondo conta poco e conterà poi nella seconda fase questo sì Grazie Grazie